Le elezioni americane si sono concluse e il prezzo di bitcoin è decollato. In realtà si sono concluse le elezioni americane ma non ancora lo scrutinio. Tuttavia molti analisti danno Joe Biden per vittorioso, cioè in altri termini si sa probabilmente chi ha vinto le elezioni americane anche se ci sarà un riconteggio e probabilmente anche una contestazione del voto. Fino a prova contraria i risultati sono questi e sono abbastanza evidenti. Questo è stato più che sufficiente per i mercati finanziari mondiali per accettare l'esito delle elezioni e quindi per decretare la fine anticipata dello scrutinio. Cioè senza aspettare che lo scrutinio sia veramente terminato i mercati hanno deciso che Biden ha vinto. Ora come vi dicevo qualche video fa a bitcoin fondamentalmente non interessava se vincesse l'uno o l'altro. L'unica cosa che interessava è che finisse l'incertezza, cioè che si sapesse che queste elezioni fossero avvenute e soprattutto che uno dei due avesse vinto. Visto che in questo momento questa certezza, diciamo così, sui mercati finanziari c'è, nonostante a livello formale non ci sia ancora, e questo ha permesso, come dicevo in quell'altro video, al prezzo di bitcoin di decollare. Guardate qua, andiamo sul grafico di bitcoin dollaro americano, prendiamo il dato di ieri, cioè gli ultimi 24 ore, ebbene ieri il prezzo di bitcoin era attorno a 13.500, 13.700, come era nei giorni scorsi. Quindi appena è iniziato a farsi strada l'ipotesi di una vittoria elettorale, in questo caso di Biden, ma la cosa è meno importante, ha iniziato a salire, prima arrivando a superare i 14.000 una prima volta, e poi nel corso della notte ripartendo e arrivando addirittura fino a 14.500. Ricordate che nell'altro video vi dicevo che dopo l'elezione americana il prezzo di bitcoin avrebbe potuto arrivare a 15.000 dollari. Quindi sembra proprio che il trend di bitcoin sia quello in questo momento descritto da quella previsione, e cioè dopo l'elezione americana appena avuta la ragionevole certezza di un vincitore, ecco che il prezzo è iniziato a salire forse andando dirigendosi verso i 15.000 dollari. Tra l'altro dovete sapere che gli investitori in mercati finanziari solitamente non sono abituati a ragionare per certezze, ma cercare di prevedere il futuro. Quindi per loro, anche se l'esito delle elezioni americane non è ancora formalmente deciso, stabilito, chiaro, in realtà si intuisce abbastanza bene dove vada a parare e quindi questo è più che sufficiente per avere un qualche modo di ragionevole certezza che l'esito sia stato deciso, sia chiaro. Ma la domanda ora è, che cosa farà dopo bitcoin? Cioè a prescindere dal fatto che da 14.500 dollari riesca a derivare anche a 15.000 o no, cosa farà dopo? Come avete visto nel grafico, la salita di oggi, praticamente in 24 ore passato da 13.500 dollari a 14.500 dollari, è un po' rapida. E quindi a volte capita che in queste situazioni il prezzo di bitcoin poi dopo ritracci. Però guardate qua, questo è l'indice della paura e entusiasmo del settore cripto aggiornato a ieri. Non è particolarmente alto, cioè è un po' di giorni che sta sopra quota 70. Ricordatevi che 50 è medio, 0 è estrema paura e 100 è estremo entusiasmo. Noi siamo a 72 adesso, finché non supera gli 80 questo indice non mostra un eccesso di entusiasmo. Io ve lo voglio dire chiaramente, a me un po' stupisce quel 72 perché dopo quello che sta accadendo io mi sarei aspettato un po' più di entusiasmo. Però può anche voler dire che, quel dato è aggiornato a ieri, magari quello che sta succedendo proprio oggi, questa mattina, questi 14.500 dollari, non sono ancora stati presi in considerazione. Però nel caso in cui il prezzo dovesse realmente salire fino a 15.000 dollari, io mi aspetto che l'entusiasmo salga attorno a quota 80, cioè vicino all'eccesso di entusiasmo. Tra l'altro tenete presente che per confermare la proiezione di fine 2016, l'ho raccontata ancora in un altro video, a novembre il prezzo massimo di bitcoin dovrebbe toccare i 14.700 dollari e ci siamo quasi. Quindi basta un piccolo sforzo per confermare già ad inizio novembre il trend del 2016. Poi per carità queste proiezioni lasciano il tempo che trovano perché poi magari capita qualcosa che cambia tutto. Però il trend sembra davvero essere simile a quello di fine 2016, però accelerato, cioè con qualche settimana di anticipo, con forse addirittura tre settimane di anticipo. Che dire, staremo a vedere. Ricordatevi che se avete ancora dei dubbi o delle domande potete sempre scrivermi via email perché via email io rispondo sempre a tutti. Solo non chiedetemi previsioni sui prezzi perché io non sono in grado di farne. Un saluto, ciao!